Cosa che porterò con me in valigia per andare a studiare in un college in America. Sarò via per 4 mesi quindi avrò bisogno di abbastanza cose, però non troppe perché anche lì ovviamente voglio fare un po' di shopping. Inizio con questa camicetta nera che sicuramente sarà utile sia nelle occasioni casual ma anche nelle occasioni un pochino più eleganti, basta abbinarci qualcosa di carino sotto. È comodo, adatto alla mia tipologia del fisico, poi è super morbido il tessuto, è adatto alle mezze stagioni tipo settembre-ottobre ed è lo stesso modello, questo qua blu, solamente che ha i lacetti tipo super lunghi e le devo arrotolare tantissime volte intorno alla vita. Poi ho deciso di portarmi anche un po' di crop top che sicuramente saranno adatti sempre alla mezza stagione, la maggior parte sono bianchi, tutti semplicissimi. Tutti quanti se non sbaglio li ho acquistati da Bershka. Di crop top neri invece ne ho portati solamente due, questo qui nero che si può tenere sia con la zip aperta che chiusa, ma io la preferisco 100.000 volte più chiusa. E poi questa qui che non è una maglietta a maniche corte che ho tagliato io ma era già corta così, c'è scritto California che non è assolutamente il posto dove devo andare, però mi piaceva. E adesso invece è il momento di provare le magliette a maniche corte. Queste se vedete sono super stropicciate perché sono nuove, le ho lavate però non le ho stirate, però ovviamente prima di partire le stiro. La maggior parte delle magliette a maniche corte che vedrete saranno bianche, se le prendo nere invece vuol dire che la stampa mi piace tantissimo. Ad esempio questa di One Piece e dietro c'è disegnato Zoro. Ultimamente quando vado a fare shopping, a parte che vesto abbastanza over come avete notato, però quando devo comprare le magliette me le compro sempre con la stampa piccolina nella parte frontale possibilmente di lato e dietro invece deve essere enorme, deve ricoprire tutta quanta la schiena. Anzi se poi ci sono raffigurati i miei cartoni preferiti soprattutto di quando ero piccola, a parte che Spongebob me lo vedo anche adesso, però impazzisco. Cioè guardate questa che bella di Spongebob, cioè Spongebob palestrato, cioè qualcosa di stupendo. Ovviamente la maglia stirata rende molto di più e veste anche molto meglio. Ne ho presa anche una bianca semplice, non lo so, può sempre servire. Per la prima volta ho comprato anche una maglietta della Levis, vi dirò sincera preferisco quelle di Bershka. Questa invece l'ho comprata solamente perché me l'ha consigliato il mio ragazzo, dovete sapere che è fissato con i manga, anime, tutte queste cose qua. Appena avete una scritta cinese, giapponese, quello che sia, subito se le compra raga queste maglie. Quindi per renderlo felice l'ho comprata, però in realtà piace anche tanto anche a me. Se non siete amanti di ricche e morti raga potete scrollare anche questo video, potete smetterla di seguirmi, cioè non lo so, io li amo. A parte questo disegno è super divertente, c'è sempre Rick che rimette oppure che sta facendo la pipì, non lo so. L'unica pecca raga è che avrei preferito tutto questo disegno nella parte posteriore della maglietta, invece nella parte interiore avrei preferito avere un disegnino piccolino. Altra maglia di ricche e morti stupenda, mi piace soprattutto il fatto che è bianca, il disegno è super divertente. Ovviamente appena l'ho vista, subito l'ho comprata. Questa di SpongeBob invece, anzi di Patrick, mi ha un pochino delusa perché all'inizio sembrava figa, però più la guardo e più non mi piace. Cioè il disegno ci sta, però è super plasticoso, soprattutto sulla parte posteriore. Se lo toccate sembra letteralmente che ti hanno attaccato la plastica sulla maglietta, che in realtà è così, però è super duro il tessuto e non mi piace. Quest'altra è molto carina. Per la prima volta ho acquistato anche una maglietta della North Face. Forse l'avrei preferita una taglia un pochino più grande, sapete che io vesto abbastanza over. Però dai ci sta, sono contenta anche di aver sperimentato un pochino e non di aver preso una solita maglietta bianca o nera e di averla presa blu questa volta. Però ovviamente l'ho presa anche bianca. Sono passata anche da Footlooker perché c'erano i saldi e mi sono comprata un po' di scarpe. E nella zona uomo ho trovato questa maglietta super carina, forse un pochino troppo grande, però in realtà mi piace. Ho deciso quindi di acquistarla. E l'ultima è questa maglietta con un disegno di Van Gogh nella parte anteriore piccolina e nella parte posteriore molto grande. Devo dire che questo periodo ho speso abbastanza per quanto riguarda i vestiti, perché ne ho comprati veramente tanti. Però sono super soddisfatta perché sono comunque maglietta a maniche corte che io sfrutto veramente per tantissimo tempo. Come vi dicevo, adesso l'unica cosa che devo fare è stirarle, piegarle e metterle in valigia. Però penso che le metterò sotto vuoto perché così occuperò meno spazio. Forse farò la stessa cosa per tutti quanti i vestiti, così veramente avrò tanto spazio nella valigia. Questa maglia arancione comunque la uso per casa, è molto carina. Non penso che me la porterò, però non so, ci sto facendo un pensierino. Comunque amici, adesso vi ho fatto vedere le maglie che mi porterò, le tute, i jeans. Fatemi sapere se volete vedere cosa mi porto come skincare e make-up. Mancano tre giorni alla mia partenza per andare in America, raga. Non vedo l'ora di far vedere tutto quanto perché è un sogno proprio enorme mio, ma anche di tanti altri, so. Quindi non vedo l'ora di farvi sognare tramite i miei video. Quindi mi raccomando, i primi giorni vi aggiornerò tantissimo su Instagram e un pochino meno su TikTok. Quindi andatemi a seguire su Instagram, ne varrà la pena. Ciao! Ciao!